no bomba cristo fanculo assoleta no 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 aspetta 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 padre che cazzo di fucile di merda c'ho aspetta ma vicino uso questo fanculo a mamma ma da dove esce tutta sta gente raga no 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 oh raga ma da dove ce l'ho non capisco ah ok l'ho vista non capivo da dove cazzo sparava ok dobbiamo avvicinarsi a loro no ce n'è un altro padre dove cacchio è vaffanculo padre io non ce la faccio più padre padre mamma mia mamma mia padre siete senza vita si si e siamo e c'è ancora un sacco di gente qua da noi arriviamo che cazzo arriviamo arriviamo ma che cacchio oh oh madre c'è 12 di vita mi sono seguendo ma madre aiuto scappa 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 oddio che sta cosa no scappa 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 ho 12 di vita scappa scappa ok aspetta aspetta prendo lo shieldino che ho trovato lo shieldone per terra mi sono ok porca miseria non ci mollano un attimo eh ci è sceso il mondo qua eh arrivo padre dove cazzo è ok ancora ti è andato pieno o eh basta avete rotto le palle ma basta ancora padre attento ancora basta ragazzi te ti sparo nel culo te pure ah fa culo avevamo tre botte alle calcagne raga ma non c'hanno manco un medikit sti poracci ma che è dio santo cioè ma perché vanno in giro senza medikit sti poracci ho delle bende aspetta arrivo allora padre vieni qua padre qua ciao kesner madonna kesner eravamo veramente nella cacca più cacca caccosa che più caccosa non si può no questa sappilo eh padre che questa è da vincere dopo quello che abbiamo passato è da vincere assolutamente hai detto padre se non la vinciamo mi ritiro si si appendiamo la pistola al chiodo e via ce ne mancano tre ragazzi ci hanno miso al cecchino eccolo preso un atterrato l'altro pure l'altro pure oh mio dio si si balla ragazzi 37 oh monaco vabbè dai ci sta ci sta pure la la cosa la oddio la smorfia napoletana oh monaco io non so il napoletano quindi se sbaglio la pronuncia se sbaglio la pronuncia si comunque ragazzi si siamo in ch7 dalla statua così almeno quando poi vincete e ritirate il premio siamo qua andiamo col secondo numero ragazzi dai vai vai qui partono le prime e 36 e castagnelle sorta di petardi dai andiamo col terzo numero che qua ancora non ci sono ambi 13 sant'antonio leggiamo noi il napoletano catusi scars va bene allora vale ti dico solo una cosa e viva la bocchiacca estraiamo il quarto numero 29 ah questo è difficile faccio tu cazzo questo è difficile aspetta aspetta opate no non mi viene opate 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 dei cre opate dei creature cioè organo sessuale maschile cioè vabbè oh cazzo facciamo prima no vabbè hanno chiamato Lambo commercio allora 3kk 1 2 3 1 2 3 più il windsurf dove sta eccolo qua adesso puoi andare in mare vai è il primo ragà andato ok commercio allora 3 1 2 3 1 2 3 devo contare ragà e windsurf però almeno abbiamo scoperto che romi sa contare fino a 3 sì ragazzi ok ebbene sì ebbene sì allora la terna è il wind intanto gli diamo il windsurf tac e poi e poi l'acqua terna 10 tarocchi no la terna che sto fa ah l'alpaca 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 aspetta aspetta l'alpaca è qua quindi sono 3kk dell'ambo più 10kk quindi 13kk perfetto atto ok a posto e questo è andato adesso si va per la quaterna giusto e sono 10 tarocchi più 15kk ma in faccia me lo metti bravo questa era brutta da dire comunque mi metti gli alert in faccia mi tiro più su guarda bravo sei proprio guarda sei proprio un poco mi tiro più su ma no bravo bravo ricontrolliamo 8 17 59 e 67 si l'ha fatta ragazzi quindi fer 2324 ok fer 2324 dove sei qua e mezzo commercio ok quindi quindi 10 tarocchi e 15kk chiede quanti soldi hai eh romina è ricca ma questi sono tutti ragazzi sono tutti i soldi donati da mordor per fare questi eventi eh cinquina eccola qua sì sì allora pk pk picchio 97 14 aspetta l'ha fatta col 24 quindi andiamo a vedere quindi 9 c'è 24 c'è 55 c'è 67 c'è 67 c'è 89 c'è grande pk picchio pk picchio 97 allora la cinquina ragazzi rassi robbi più 30kk allora quindi abbiamo detto rassi robbi che sta qua e 30kk 1 2 3 1 2 3 dimmi il premio lui ti fa concorrenza anche lui cerca una palestra globale di danno qua e qua e bella picchio bella picchio hai capito bella picchio chiudi giveaway abbiamo chiuso il giveaway ragazzi raga chi mi lascia strada per expare 3 grazie loren grazie mille grazie mille ok ragazzi vado eh reclama un vincitore io vado a clicco eh mi raccomi cioè chi non c'è online in live ovviamente non becca il buono cioè dovete stare on e scrivermi poi mi scrivete in privato mi mandate la vostra email così io domani con calma ve lo mando perché adesso abbiamo 250.000 cose da fare però domani ve lo mando vado eh vado ragazzi vado anthony s95 ragazzi eccolo anthony aspetta che ti scrivo no vabbè jd ma io ti adoro ma io ti adoro cioè ma è vero no ma ho sogno sogno o son desta no jd ma sei un tesoro numero 19 chi era il 19 capese si che è uscito loren l'89 è uscito ce ne sono due col 19 ce ne sono due col 19 tombola nesker nesker raga allora raga rimanete perché i premi non sono finiti quindi numero alla 19 uscito 29 uscito 39 uscito 63 uscito 81 uscito 9 uscito 47 uscito 48 pure 54 pure poi 63 64 65 madonna ma che cartella c'avevi 63 64 65 73 76 81 84 e 87 si mark può ritirare la sua vincita eccolo qua eccolo qua 50kk raga ah le medicine per il compagno eccole qua ok stamp vado allora gli altri premi continuiamo con la tombola quindi it about boy e Grazie.